Chiedono di aprire un tavolo tecnico in prefettura per controllare le sale slot e combattere la ludopatia, fenomeno che coinvolge sempre più la fascia debole. La richiesta è dei parlamentari foggiani del Movimento 5 Stelle. Hanno chiesto al prefetto, al questore e ai sindaci di intervenire per spegnere l'allarme sociale. Nel decreto dignità presentato il 3 luglio c'è già il divieto di pubblicità al gioco d'azzardo. Andrà in vigore dal 1 gennaio 2019. In provincia di Foggia i grillini sono in prima linea. Stanno verificando il rispetto delle norme e la distanza da una sala all'altra e dai luoghi sensibili nello stesso centro. Minimo 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, chiese, impianti sportivi e centri giovanili. Interessati tutti i sindaci dei comuni della provincia di Foggia. I grillini hanno avuto risposta solo dai comuni di Foggia, Biccari e Peschici. Attivisti del Movimento stanno verificando in maniera autonoma il rispetto delle norme. Dai primi dati, su un totale di 452 sale slot, solo 41 rispetterebbero le distanze minime, mentre ben 406 si troverebbero ad una distanza inferiore ai 500 metri dai luoghi sensibili. Il tavolo tecnico richiesto in prefettura dovrebbe controllare e verificare le richieste di autorizzazione o dei rinnovi all'esercizio dell'attività di sale slot. Grazie. Grazie.